allora da una parte c'è il fatto che sto facendo le intro troppo lunghe e quindi mi voglio un attimo velocizzare dall'altra parte c'è il fatto che oggi a oggi risiamo 17 io lo so che c'è stata la proposta per verona che ci stanno pensando che c'è tutto il ranking e tutta quella roba lì però oggi risiamo 17 e siccome io comincio un attimo a conoscerli i miei polli sono un po preoccupato essendo un po preoccupato e dovendo stringere un attimo l'intro in apertura del video in questo discorso non c'entro neanche se ne riparla prossimamente tabellone generale aggiornato come vedete iniziano a esserci diversi quadratini gialli e andranno ad aumentare la mia opinione la mia sensazione così proprio a naso per esperienza è che settimana prossima massimo quella dopo si entri veramente nel vivo del mercato con la buona parte dei nuovi giocatori che potrebbero arrivare purtroppo come detto c'è anche un buco nel tabellone però ne riparliamo tra un po fortitudo bologna non ci sono novità in termini di nuove ufficializzazioni rispetto al video scorso però ci sono novità nei rumors perché hanno perso un po di quota le posizioni di fabio mihan e di west saunders in particolare la fortitudo sembrava essere sul punto di poter chiudere con saunders però la cifra sulla quale viaggia il giocatore attualmente è troppo elevata ci sono diverse squadre straniere sull'ormai ex cremona tra gli altri l'ultimo nome che è uscito proprio nell'ultimissime ore è quello di riccardo cervi che sembrerebbe lo vedremo poi a breve essere in uscita da trieste sinceramente parere mio personale mi sembrerebbe un po improbabile l'arrivo di cervi alla fortitudo perché sarebbe il terzo centro e tra l'altro non è che cervi è uno che dice vabbè in emergenza me lo fa giocare da quattro cervi è un cinque fatto è finito quindi stante il fatto che henry sims sembrerebbe essere sempre più vicino alla conferma effettiva alla corte di meo sacchetti lo vedo improbabile l'arrivo di cervi però mai dire mai virtus bologna io ce l'ho messo billy baron perché continuate a scrivermelo in decine e decine però come vi dicevo anche in live per quelle che sono le mie informazioni quelli che sono i rumors che mi sono arrivati sembra essere un nome che è entrato nel giro dei papabili però dalla parte dei tifosi nel senso un sogno della tifoseria non sembra non pare che la virtus sia effettivamente sul giocatore dovrebbe però sia arrivare una nuova guardia il nome di amedeo della valle c'è perché era stato accostato recentemente ma sembra essere straniero il nuovo giocatore che arriverà e anche con esperienze in eurolega per il momento però nomi non ce ne sono ho inserito julian gamble che c'è sempre stato ha sempre avuto contratto però io l'avevo sempre messo tra i rumors perché effettivamente non sono arrivate notizie in merito e i due giocatori in uscita sembrano essere cuono e baldirossi tant'è che li ho tolti quindi il fatto che si voglia cominciare a sfoltire anche un po il reparto dei lunghi mi farebbe propendere attualmente verso la conferma di julian gamble brescia è ufficiale il primo nuovo arrivo per la prossima stagione tyler kalinoski e magari entreremo più nel merito in un prossimo focus nuovo giocatore dedicato proprio a kalinoski io l'ho messo guardia titolare in realtà poi bisognerà vedere come esposito e lo staff vorranno completare la squadra potrebbe benissimo giocare anche da playmaker aggiunto è un giocatore un po atipico che copre diversi ruoli tra gli altri il nome ultimo uscito è quello di giordano bortolani a breve vedremo che ha firmato sta per firmare con l'olimpia milano ma potrebbe essere girato in prestito proprio a brescia per fare esperienza brindisi anche in questo caso non ci sono nuove ufficializzazioni rispetto all'ultimo video però qualcosa è cambiato perché si rinforzano le voci su un possibile probabile direi a questo punto arrivo di david cuono in uscita come detto dalla virtus bologna in più marino ha fatto sapere che dopo la partenza di banks si sta lavorando alla conferma di tre giocatori dalla scorsa stagione uno è sicuramente john brown con il quale la trattativa è ormai avviata già da un po sugli altri due invece ci sono ancora due punti interrogativi probabilmente se ne saprà di più la prossima settimana canto dopo quella di pecchia altre due conferme importanti per la squadra di cesare pancotto il prolungamento con andrea la torre e proprio oggi è uscita l'ufficializzazione del quadriennale addirittura firmato con il gioiellino gabriele procida che si vocifera entrerà a far parte proprio della rotazione effettiva già dalla prossima stagione però insomma un segno di una progettualità anche importante chiuso il capitolo italiani per quello degli stranieri il primo nome buono potrebbe essere quello di donte thomas cremona anche in questo caso purtroppo per il momento non ci sono novità circa un'eventuale permanenza della vanoli in serie a l'unica novità riguarda l'apertura di una raccolta fondi su go found me l'obiettivo è stato posto sui 500 mila euro quindi un obiettivo importante l'ultima volta che ho controllato eravamo circa 11 12 mila euro la strada da fare è ancora lunga si aspetta e si spera che possa arrivare qualche nuovo investitore per provare a salvare la vanoli milano continua a muoversi sul mercato la squadra di ettore messina come detto in arrivo giordano bortolani che però verrà girato in prestito almeno per la prossima stagione ufficiale anche l'arrivo di kevin panter che è un giocatore che personalmente io adoro cioè uno di quelli che campionato eurolega se vuole se è in serata una partita te la può far vincere anche da solo allo stesso modo però se non è in serata è uno di quelli che può contribuire a fartela perdere quindi in quei casi bisogna riconoscere la situazione toglierlo e sapere anche come toglierlo però sulla gestione del personale penso che meglio di ettore messina in giro non ci sia nessuno come detto shaman shields si aspetta soltanto che chiuda il campionato per poter essere annunciato per gigi da tome invece la settimana buona o comunque la settimana decisiva in un senso o nell'altro stando alle notizie che arrivano da obradovic e co potrebbe essere la prossima vl pesaro ieri era praticamente fatta per maurizio buscaglia però come sempre vi dico durante il mercato fino a che non arriva l'ufficialità non bisogna mai fidarsi e a volte neanche dopo l'ufficialità tant'è che oggi è arrivata la fumata nera per maurizio buscaglia verso il quale sembrano potersi aprire degli spiragli per l'estero e a me personalmente dispiacerebbe molto per il coach si parla di aza petrovic o alessandro ramagli in più in giornata è spuntato il nome di tommaso la quintana in uscita da brescia pistoia questo era lo spazio di pistoia in realtà e invece ci sono io per dirvi quello che già sapete cioè che pistoia ha chiesto di essere auto retrocessa in a2 e io comprendo perfettamente lo stato d'animo dei tifosi pistoiesi perché anch'io sono toscano pistoia era rimasta l'unica grande realtà del campionato italiano in serie a proveniente dalla toscana quindi sono enormemente dispiaciuto però vi posso dire meglio ripartire dalla 2 con un progetto una situazione sana solida che non arrancare per un'altra stagione o mezza stagione magari per poi essere sommersi dai problemi economici e vedere la squadra e la società sparire meglio così spero di rivedervi presto in serie a e anche se non rientra più nel range di copertura di questo video ci salutiamo con la firma ufficiale di lorenzo saccaggi dimostrazione che comunque pistoia c'è è sana è viva è solida e lotta per tornare in serie a reggio emilia nessuna nuova ufficializzazione rispetto all'ultimo video però stando ai rumors che arrivano nelle ultime ore sembrano prendere piede i nomi di nicola che le e michele ebeling almeno uno dei due con a che le leggermente in vantaggio per simone fontecchio pare il futuro possa decidersi entro e non oltre la prima settimana di luglio virtus roma anche in questo caso purtroppo esattamente come per quanto abbiamo detto della vanoli la virtus roma e la vanoli cremona sono le due società in bilico in questo momento tra serie a e serie a 2 anche in questo caso però non ci sono novità si aspetta che possa arrivare un nuovo investitore privato o un'azienda per il momento però anche rullo e baldasso che dovrebbero essere gli ultimi giocatori tuttora sotto contratto sembrerebbero essere in uscita dinamo sassari ho sistemato secondo vostro consiglio i ruoli ma sapete che questo è un po uno schema soltanto così riassuntivo per intendersi non è che qualcosa di particolarmente vincolante i ruoli dicevo di treiere stefano gentile per le novità delle ultime ore sembra riaprirsi a sorpresa alla strada che porta a vasapusica che prima era stato quasi annunciato dalle parole di gianmarco pozzecco poi sembrava essere sfumato pare per un mancato accordo sulla clausola covid ma su questo non c'è certezza e ora invece sembra essere nuovamente un obiettivo della dinamo per la prossima stagione un altro nome che potrebbe essere ufficializzato a breve è quello di justin tilman che è uno dei giocatori che io seguo vi devo dire con maggiore interesse nelle ultime stagioni lontano dall'italia è una sorta di ration thomas 2.0 ecco per capirsi sarebbe un gran colpo torino ancora di fatto nessun mercato ci sono dei nomi che vengono associati a torino ma per il momento la società è ferma sul mercato perché tiene banco la questione del passaggio di proprietà da stefano sardara a ipotesi delle ultime ore un fondo straniero un fondo inglese che potrebbe essere interessato a tenere la squadra quantomeno per un anno cioè per la prossima stagione che sarebbe la prima del ritorno in serie a novità sono attese entro i primi del mese i primi di luglio trento in attesa di movimenti sul mercato degli stranieri la novità importante degli ultimi giorni riguarda il prolungamento con dada pascolo che già aveva contratto con la squadra di nicola brienza ma che ha allungato il proprio contratto e che quindi diventa di fatto un po il simbolo dell'aquila basket trento assieme a toto forrai per gli stranieri dicevo prossima settimana potrebbero esserci novità lo sto dicendo di tante squadre lo so però come vi dicevo secondo me dalla prossima inizierà proprio a muoversi mercato bello pesante treviso ufficiale la firma di giovanni vildera giocatore che ha maturato negli ultimi anni tanta esperienza anche nelle serie minori anche in a2 e che però in serie a può giocare secondo me può reggere buoni minuti sia da 4 che da 5 io l'ho messo 4 perché fondamentalmente con chilo vedo forse più chilo da 5 ma di fatto potrebbe benissimo essere anche il contrario per il resto chi fosse interessato al focus su jeffrey carroll in chiusura di questo stesso video trieste diverse novità negli ultimi giorni per la squadra di eugenio dal masson ufficiale prolungamento di juan manuel fernandez io l'ho messo playmaker di riserva ma in base a chi arriverà per completare la coppia in cabina di regia potrebbe tranquillamente essere il titolare alla fine ufficiale anche la firma di grasolis che era stato vicino anche a diverse altre squadre in serie a giocatore del quale magari parleremo approfonditamente in un prossimo focus per i rumors invece thomas kiss link in uscita da roma e ike udano in uscita da venezia due giocatori che a me personalmente piacciono tantissimo però sudano c'ho qualche dubbio nel senso se viene preso per giocare da titolare stare in campo dai 27 minuti in su secondo me è tuttora uno dei migliori giocatori del campionato giocatore che fa la differenza se però l'idea di dal masson è quella di ruotare due lunghi due centri come ha fatto nelle ultime stagioni e quindi dare a udano 19 20 minuti sia che la riserva sia cervi sia che sia un altro perché come detto cervi sembrerebbe essere in uscita allora per me è meglio di no perché udano da 27 minuti ripeto uno dei giocatori più dominanti del campionato udano da 19 minuti 20 minuti quasi dannoso varese anche in questo caso tante novità perché se da un lato sembra allontanarsi sempre di più josh mayo dall'altro sembra avvicinarsi essere vicino ormai al rinnovo matteo tambone che sarebbe un grande acquisto una grande conferma ripeto io l'ho messo riserva per ora potrebbe anche partire da titolare ufficiale la firma di arthur strautins un altro che ha bisogno di trovare minuti e continuità ma che quanto ha talento e potenziale non è assolutamente in discussione in settimana è arrivata anche la visita alla pallacanestro varese da parte di luiz scola la trattativa è in corso d'opera così come quella con tony douglas dovessero arrivare entrambi le ambizioni di varese diventano molto molto interessanti per la prossima stagione rayer venezia prosegue il trend di conferme ormai iniziato da diversi anni per la squadra di walter de raffaele sono stati prolungati sia andrea de nicolao che julian stone la squadra di fatto è quasi formata da capire se si vorrà inserire un nuovo lungo o meno e poi c'è la questione playmaker per quel che mi riguarda un playmaker deve essere preso perché se l'anno scorso in qualche modo siamo riusciti a fare anche con la coppia de nicolao fioi con la partenza di fioi non penso che la rayer venezia possa disputare un campionato delle ambizioni che ha avuto negli ultimi anni con de nicolao unico playmaker titolare e stone playmaker aggiunto in riserva e basta per cui credo davvero che si vada ad investire stavolta finalmente per davvero su un vero playmaker e qui veniamo al focus nuovo giocatore per la nostra serie a di questa settimana anzi di questo secondo episodio settimanale jeffrey carroll nuovo arrivo in maglia treviso guardia alla classe 1994 25 anni nativo del texas 198 cm per 93 kg non scelto al draft nba del 2018 l'ultimo anno al college 15 e 6 rimbalzi con due assist e il 33 per cento da tre punti mentre lo scorso anno a bergamo in lega 2 gold 18 punti 6 rimbalzi e due assist per 19 di valutazione di media massimi stagionali da 27 punti 13 rimbalzi e 40 di valutazione come comparison il primo nome che mi viene in mente così proprio come movenze come similarità sul campo è quello di brandon trish con il quale condivide gran parte dei movimenti offensivi certo è che trish aveva un altro tipo di fisico un altro tipo di ruolo e anche un senso del canestro un po più sviluppato però rispetto a brandon trish jeffrey carroll alla grande capacità di saper giocare anche senza palla quindi tagli backdoor farsi trovare pronto muovere la difesa essere pericoloso in attacco anche senza la necessità di dover avere per forza la palla in mano cosa che diventa particolarmente importante dovendo andare a giocare assieme ad un giocatore come david logan a trevizzo la mano da fuori è buona l'atletismo è importante soprattutto per quelli che sono gli standard i livelli del nostro campionato e cosa da non sottovalutare proviene da un'esperienza in serie a 2 che fino a qualche anno fa era un valore aggiunto molto importante perché andavi a prendere un giocatore che già conosceva l'italia il nostro basket il nostro modo anche di approcciarsi alla stagione negli ultimi anni invece questa cosa si è un po persa si tende ad andare a scommettere parecchio sui ruchi o sui giocatori provenienti da altri campionati però voi lo sapete io sono vecchio è attaccato alle abitudini detto questo noi ci rivediamo lunedì con se non vado errato un video un po particolare un po diverso dal solito come ormai è quasi abitudine ormai tutti i lunedì fino a che non ricomincia le miei settimana prossima poi sono attese altre sorprese quindi state sintonizzati ma quanto sono proprio boomer nell'anima